Profondo cordoglio per la morte di uno dei nostri più giovani ambasciatori, Luca Attanasio, morto stamani insieme ad un carabiniere in un ville attentato nel tentativo di sequestrarli. Profonda vicinanza alle famiglie, alla farnesina tutta e all'arma dei carabinieri, è la dimostrazione di quanto prezioso ma anche pericoloso possa essere l'impegno del nostro corpo diplomatico e anche dei nostri esponenti delle forze armate in territori di confine quale può essere appunto il Congo.